Eccoci qua, siamo al 2 settembre, sotto una leggera pioggerella i lavori vanno avanti e come potete vedere il ponte ormai è completo, forse mancano alcuni ritocchi dalla parte dei marciapiedi, però per il resto, dicevo per il resto va tutto bene, complimenti a tutti, abbiamo di nuovo questo ponte riutilizzabile, presto riutilizzabile, ora diamo un'occhiata da più vicino, più da vicino, che dire, visto da vicino sembra che anche l'accesso dai marciapiedi sia quasi pronto, ultime ritoccate probabilmente, devono ritoccare lì i bordi, farci un ritocco, però poi il ponte è ok, stanno stringendo le ultime viti e come potete vedere è pronto, bel ponte!